buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 8 novembre 2024 il santo del giorno il santo del giorno lo vediamo qui subito nella grafica si tratta di sango freddo di amiens un santo francese che visse nell'undicesimo secolo vescovo e pacificatore si mise dalla parte del popolo contro lo strapotere dei feudatari vediamo anche le previsioni del tempo oggi cielo nuvoloso su tutte le marche con possibili e isolate brevi piovigini nelle aree interne soprattutto quelle settentrionali ovvero quelle e quelle della provincia di peso l'urbino le temperature sono stabili tra gli 11 gradi per quanto riguarda la minima e fa piuttosto freschino specie nelle prime ore del mattino alle 15 per quanto riguarda la massima i venti sulle coste spireranno con una tensione debole da ovest nord ovest nell'entroterra da sud sud est il mare è leggermente mosso il sole il sole è sorto alle 6 e 51 e tramonterà alle 16 e 50 e bene queste le previsioni del tempo e con queste iniziamo la nostra giornata a partire dallo sfoglio dei giornali per quanto riguarda le notizie di carattere locale e oggi apriamo con il corriere adriatico sulla pagina di fano dove vediamo una un dibattito un dibattito sulla sanità la sanità da tempo e sulle pagine dei giornali sia per quanto riguarda le carenze ma anche per quanto riguarda la professionalità di certi medici che operano negli ospedali è proprio la professionalità dei medici che stanno operando nel reparto del blocco diciamo così materno infantile dell'ospedale santa croce che il sindaco di fano ha rilevato appunto il valore di questa opera blocco materno infantile non chiude ha promesso il sindaco serfilippi che garantisce per il santa croce serfilippi ha risposto così al partito democratico che nell'ultima seduta del consiglio comunale ha promosso una interrogazione la spiegata la consigliera Sara cucchiarini e ha replicato il sindaco che il centrodestra manterrà i presidi anche a pesaro e a urbino sappiamo come una normativa nazionale definisca il numero dei parti per il mantenimento di questi reparti ma insomma fano a una entità una popolazione così importante 60 mila abitanti la terza a livello regionale insomma che non può fare a meno di questo reparto vediamo anche una pagina una un articolo nella pagina che riguarda i bambini c'è una innovazione fanno città dei bambini fino adesso ha avuto un consiglio fornì fatto da ragazzi degli elementari ma la nuova giunta lo ha implementato aprendolo anche i ragazzi che frequentano le scuole medie il consiglio dei bambini si apre ai ragazzi e alle ragazze ovviamente l'innovazione introdotta dalla vice sindaca loretta manocchi tre allievi per ogni scuola media e sappiamo come le scuole medie della città ultimamente sono aumentate a quattro perché dopo la gandiglio la padalino e la nuti c'è anche la scuola media di santos quindi tutte verranno rappresentate e l'amministrazione comunale si è incaricata di consultarle ogni qual volta ci sarà da prendere una previsione che riguarda anche i bambini sia di carattere urbanistico che di carattere di viabilità soprattutto per quanto riguarda la sicurezza smart system e fano service due aziende innovative saranno presenti oggi in un incontro programmato alle ore 17 nella migliateca montanari si tratta di un'iniziativa della università dei saperi e sapremo di più di queste due aziende che sono delle due aziende leader del nostro territorio aziende che alimentano la nostra economia ma che soprattutto qualificano con i loro prodotti con le loro tecnologie il lavoro che si svolge nel nostro territorio e parliamo anche di carnevale parliamo di carnevale perché l'amministrazione comunale ha approvato il consuntivo della edizione del 2024 si tratta di un consuntivo ancora parziale perché l'ente canevalesca deve ancora riscuotere parte dei contributi che vengono ad essa dati dalle istituzioni per esempio dei 130 mila euro che il comune si è incaricato a dare all'ente ne ha riscossi solo 91 mila e anche per quanto riguarda la regione marche il il contributo è stato riscosso parzialmente dovrebbe riscuotere 72 mila e 500 euro ne ha riscossi solo 37 mila e 500 ma diamo un'occhiata anche quanto costa un carnevale a fano ebbene il bilancio preventivo l'elaborato ridatto dall'ente carnevalesca prevedeva una spesa di 864 mila 430 euro insomma una cifra piuttosto sostanziale che si avvicina al milione di euro e vediamo anche come vengono articolati questi prezzi ebbene l'incasso l'incasso dei biglietti è stato di 267 mila euro quello dei palchi 50 mila 51 mila euro presto a poco le sponsorizzazioni hanno fruttato 59 mila euro la lotteria la vendita del getto e del prendigetto 64 mila 367 euro l'unico contributo che al momento viene dagli enti privati è quello della fondazione carifano per una somma di 15 mila euro questo è un po' un sunto di quello che riguarda il carnevale sono risorse ingenti ma sono risorse ancora insufficienti veramente per rendere grande il carnevale di fano come esso meriterebbe soprattutto anche come altri comuni investono per così finanziare questa manifestazione che non è in sé per sé una manifestazione effimera sì lo è dal punto di vista spettacolare ma non lo è dal punto di vista della storia della cultura della tradizione di una città passiamo ad altre notizie una fiaccolata per riccardo spunta uno strano biglietto una fiaccolata per riccardo è quella che organizza la mamma del ragazzo scomparso ormai da diversi giorni una fiaccolata al furlo per tenere desta la speranza di ritrovare il ragazzo promossa appunto dalla sua mamma stiamo organizzando una fiaccolata oltre che una raccolta di firme ha pubblicato ieri su facebook federica pambianchi appunto la mamma di riccardo per la fiaccolata salvo imprevisti e si pensava di organizzarla sabato 23 novembre dal parco lagolena alla diga del furlo con partenza alle ore 20 e 30 e immediate sono arrivate tante tante le adesioni al post della madre del ragazzo scomparso ormai dal 13 ottobre scorso si tratta di un'iniziativa per tenere ancora alta l'attenzione rispetto a questa tragedia questo dramma che vive la famiglia vivono gli amici che dovrebbe essere così fatta luce per cercare di capire e dove questo ragazzo è finito e soprattutto le motivazioni che hanno hanno spinto che hanno promosso la sua scomparsa l'allarme generato da cupe liste di attesa si parla di sanità ancora a fossombrone per quanto riguarda le carenze di questo servizio essenziale per tutta la città della città per tutta la cittadinanza metaurense il comitato pro ospedale replica il direttore dell'ast e gli chiede un incontro ad alberto carelli e dopo le 300 firme raccolte al mercato contro il depotenziamento dell'ex ospedale di fossombrone domani mattina l'iniziativa prosegue davanti all'edificio della struttura sanitaria si tratta di una petizione finale che verrà consegnata in regione al presidente della commissione bacchiocchi e la commissione sanità bacchiocchi è un'iniziativa ovviamente come ce ne sono tante altre nel nostro territorio per cercare di dare ancora più impulso abbiamo visto anche il problema del blocco materno infantile che riguarda Fano ed è impregiudicato perché è probabile che insomma tutto venga centrato a pesaro oppure viceversa però insomma entità città come quelle che ci sono nella nostra provincia meriterebbero dei blocchi assestanti vediamo anche quello che accade a Pergola a Pergola si parla dei prodotti di eccellenza tartufo e visciole sono due elementi che attirano anche i turisti tartufo soprattutto ebbene di questi prodotti si è fatta promozione in Canada pensate dalla fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola si passa in Canada dove c'è stata una grande mostra della cucina italiana a Quebec quest'anno dedicato al tema dieta mediterranea e cucina delle radici salute e tradizione in vetrina le marche e tra i vari prodotti neogastronomici due straordinarie eccellenze di Pergola appunto il tartufo e il visciolato e tutto quanto è stato poi organizzato grazie anche al console generale di Montreal insomma ha avuto un grande successo questo stand nelle marche in modo particolare perché sono due prodotti veramente di grande di grande eccellenza e parliamo anche di eccellenza per quanto riguarda la produzione di alcune aziende di livello alto per quanto riguarda l'economia del territorio tre aziende di Mondolfo nella top marchigiana sorprese nella classifica dell'annuale report della fondazione Merloni una fondazione che stila ogni anno una classifica delle aziende che hanno più fatturato ebbene quella di Mondolfo le aziende di Mondolfo sono la Moretti Forno collocata al 383esimo posto insomma comunque l'importante è esserci in classifica anche se ovviamente Mondolfo è una realtà limitata rispetto ai capoluoghi anche se Mondolfo dobbiamo dire è una dei comuni più popolosi del nostro territorio della nostra provincia la Moretti Forni con sede in via Meucci a Mondolfo azienda leader nel settore della produzione di forni pizza pane pasticceria e gastronomia insomma sono quei forni statici che possono cucinare questi alimenti e poi si conferma tra le prime 500 la Protecno SRL impianti e costruzioni con sede in via Mattei che è chiuso il bilancio di esercizio al 433esimo posto tra le aziende marchigiane la terza azienda è la rondina auto SRL che si è posizionata al 244esimo posto facendo segnare un margine di crescita importante rispetto appunto all'anno precedente del 18,5% veramente delle performance importanti passiamo a Senigallia a Senigallia parliamo sempre di enogastronomia perché ci sono due chef di eccellenza che si sono fatti conoscere ovviamente li conoscevano anche prima diciamo meglio si sono fatti onore in un territorio che è un po' lo specchio di quello che avviene in tutto il mondo si parla di Cedroni e di Uliassi premi a non finire conquistano gli Oscar della cucina pensate dove lo hanno fatto a Dubai star a Dubai con The Best Chef Forward 2024 gli albergatori con i cuochi stellati l'immagine è al top e non solo hanno promosso se stessi la loro capacità la loro cultura gastronomica ma ovviamente hanno promosso anche il loro territorio e quindi anche Senigallia ha avuto una promozione importante in un luogo topico come quello appunto della comunità di Dubai e a questo punto vediamo anche la pagina di Pesaro dove l'apertura è dedicata ad una struttura che rimbalza ogni tanto nelle pagine della cronaca si tratta della pista ciclorotellistica la pista ciclorotellistica di Torrette che deve essere costruita lì c'è anche un progetto che prevede l'abbattimento di diverse piante ma dietro le proteste e anche le richieste degli ambientalisti 50 piante sono state salvate i lavori all'impianto legati al PNRR si erano bloccati dopo le proteste gli alberi che verranno battuti per il tracciato alla fine sono 76 è un numero piuttosto importante però sarebbero stati di più se non ci fosse stata questa protesta, questa iniziativa degli ambientalisti che hanno salvato almeno 50 piante vediamo ancora la vita travagliata dei lavori dell'auditorium Scavolini di Pesaro, il vecchio palace pesarese tempio dello sport ma anche tempio dello spettacolo ebbene la opposizione dice che va fatto un bando ad hoc per la sua gestione la commissione dei lavori pubblici tutti i dubbi del centro-destra sono stati espressi al corso dell'ultima riunione ebbene l'opposizione ha rilevato che dopo anni di attesa e con costi oltre il triplo pensate che all'inizio i costi dei lavori di questo vecchio palace erano stati calcolati in 3,6 milioni ma alla fine sono arrivati addirittura a 12 milioni di euro insomma la cifra è cresciuta tantissimo veramente tantissimo ed ora abbiamo visto come per quanto riguarda gli spettacoli nonostante anche qualche incertezza il nuovo palace si mostra chiaramente disponibile è una cornice ideale per quanto riguarda lo sport invece ci sono ancora alcuni interventi da fare e questo ancora dilunga la fine completa di tutti i lavori comunque per la gestione già si pensa ad una gestione ad hoc passiamo ancora per parliamo ancora di arte ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi vediamo che è arrivata a Pesaro tutta la collezione, tutto il lascito di Vangi questo grande scultore noto in tutto il mondo che è deceduto recentemente che ha lasciato gran parte delle sue opere al comune di Pesaro è arrivata tutta la sua collezione tutte le sue opere e il sindaco Biancani intende realizzare una grande mostra nella sala della pescheria e il comune chiede ospitalità anche ad altre aziende perché le opere sono veramente tante che altre alcune devono essere collocate in altre sedi si corre dunque per allestire questa grande iniziativa è una delle iniziative maggiori che Pesaro allestisce nel quadro di Capitale Nazionale della Cultura si corre per allestire appunto l'iniziativa entro la fine del mese e per quanto riguarda invece la viabilità il sindaco ha annunciato due opere veramente importanti sappiamo come è difficile parcheggiare nel centro storico di Pesaro o anche in prossimità della parte centrale della città ebbene il comune si intende realizzare due maxi parcheggi due strutture multipiano in due punti focali del centro storico gli orti giuli e l'ospedale nelle aree Carducci e della Caserma sono questi un po' i luoghi che sono stati oggetto di un sopralluogo da parte dei tecnici ed è una notizia veramente importante perché se venisse realizzata gli autobiabilisti fanesi i cittadini pesaresi anzi avrebbero un po' più di respiro e anche i fanesi che vengono a Pesaro sono anche molto disorientati per quanto riguarda l'area dei parcheggi se non cercare un posto nei parcheggi a pagamento oppure lontano i parcheggi liberi in zona mare ma nemmeno lì si trovano liberi questi posti auto Frana è in corso chiusa alla strada di Monte Granaro istituito un doppio senso di circolazione finché non saranno finiti i lavori il comune ha chiuso ieri la strada di Monte Granaro e ha istituito un doppio senso di marcia nelle vie Lincoln Gandhi e King per cercare appunto di così di ovviare a questa situazione Varotti Varotti Amerigo Varotti 40 anni alla guida della Confcommercio come direttore provinciale Varotti era in pensione da 4 anni ora sembra che lasci definitivamente ma insomma quel definitivamente per Varotti ha sempre un margine di incertezza perché Varotti sì ormai rinuncia all'incarico di direttore però conserva alcune cose che a lui piacciono in modo particolare e sono quelle del turismo e della promozione insomma lui è il grande autore di una iniziativa editoriale che ormai sta dilagando non solo in tutta la provincia ma sembra che acquisti l'interesse anche delle altre province perché è stata veramente un veicolo di promozione in diversi aspetti delle attrattive turistiche del nostro territorio apprezzate a livello nazionale caso a fidi 4 anni di eventi e sponsor al setaccio in 13 milioni di megabyte ancora un articolo per quanto riguarda questo caso controverso questo caso che ha richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine a Pesaro non solo centinaia e centinaia di pagine cartacee sequestrate in comune dalla guardia di finanza ed ora si parla anche di hard disk di atti delibere corrispondenza di posta elettronica dati telefonici messaggi insomma veramente è stato passato il setaccio tutto il comune vediamo anche il resto del Carlino dove si parla di una riunione che c'è stata in comune con gli albergatori il comune investa sul turismo le risorse che arrivano dalla tassa di soggiorno e la richiesta degli albergatori e dovrebbe essere un indirizzo privilegiato quello di investire gli incassi della tassa di soggiorno nel settore del turismo però è stato questo che è stato ribadito dagli rappresentanti degli albergatori per quanto riguarda la nuova amministrazione e tra le priorità ci sono i parcheggi scambiatori con i bus navetta investe anche l'amministrazione comunale su casa ferri avanti con i lavori nella sede della banda a città di Fano la banda del ballato che è anche un punto di riferimento per coloro che vogliono studiare la musica Fanesi difende il piano regolatore risolverà molti problemi ha detto il piano regolatore licenziato dalla giunta Seri il capogruppo del partito democratico che è stato assessore all'urbanistica quindi uno degli autori del piano regolatore dice 13 pagine di integrazioni da parte della provincia sono la normalità per 7.000 fogli e due faldoni di relazioni e si tratta di quelle pagine di integrazione che l'assessore attuale all'urbanistica Manocchi ha definito veramente un marasma di osservazioni insomma che rende quasi quasi il piano regolatore inattuabile e adesso gli uffici sono al lavoro per cercare di rispondere a quanto la provincia ha voluto e poi si vedrà se dopo con queste integrazioni più che integrazioni sono spiegazioni poi verranno le integrazioni in base alle spiegazioni che la provincia ha richiesto ma ancora il complesso l'interburocratico il piano regolatore è in atto e chissà se ci vorrà probabilmente ci vorrà ancora molto tempo prima che si arrivi se si arriverà all'adozione definitiva oppure se si ricomincerà tutto da capo e intanto passa l'intervento da 150 mila euro per le strutture a supporto del palatrave è un punto di riferimento per tanti tanti ragazzi che amano la pallavolo ed è un punto di riferimento anche per quella zona sportiva della trave che è una zona veramente preziosa dato che anche la pista Zengarini è oggetto di lavori e speriamo che si concludano al più presto vediamo anche un intervento del sindaco sulla chiusura della profumeria Taussi ne abbiamo parlato ieri nella rassegna stampa per quanto riguarda la chiusura di questa profumeria che risale al 1800 il vostro lascito sarà sempre vivo nella memoria della nostra città e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci